secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie 9.500 sub entro il 26 di agosto ho abbassato le pretese sono anche una persona di mortate vedi porca madonna stoffa la clip mille euro spesi su asos appena poi torno dalle vacanze perché il 26 vado in vacanza quindi 9.500 sub entro il 26 d'agosto mille euro spesi su asos da voi miei dai duro per il mese non penso mai no la cagata vabbè ragazzi io ricordo una cosa svezia canada con il mio pupillo nel canada che non mi ricordo ancora come si chiama ma c'ha 90 di overhaul e 99 di potenza se vince il canada stappo lo champagne la svezia canada vabbè regà che famo 30 minuti così ne posso passare c'è pure io c'ho un livello di intrattenimento che non tanca 30 minuti se volete vedere due video nel mentre se volete vedere due video nel mentre poi ha due reaction per ride ci posso stare che ho tenuto per solo motore solo motore ormai non ce l'ha più i diritti su gianmarco tocco e andrea grazie per i 5 fabbri grazie per il livello 1 benvenuti stalla frate e se potremmo è finita moneta ottimo e raga c'ho bisogno ci siamo quasi siamo lì eh potrebbe arrivare una moneta dai dammi una moneta non fa non fa lo scirocco si doppia moneta ottima da paura mi serve una moneta eh il problema è sempre quello regà a fine da fiera mi serve una moneta vediamo se ma da vediamo se ma sta da dammi sta moneta te prego si doppia moneta ottimo ancora una volta mezzo che la casso me sa eh buono 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 regà che culo che culo ok ce ne mancano 3 de monete 3 monete abbiamo cassato regà questa la prendiamo una moneta eccola qui una bella monetina che mi serviva oh no ah perry con mi madre ovviamente perché io vado con mi madre a mettere bluetooth nella macchina e quando vado e il tizio che mi ha fatto il porco dio di tampone eh sì mentre mi faceva il tampone cantava katy perry cantava tutta ah sì hot and cold di katy perry la sapeva tutta a memoria era un vecchio di 60 anni io zì sono stato a bocca aperta con un coso ficcato qui perché io ho avuto una digressione di tamponi che è partita dal primo tampone molecolare che mi ha fatto tutu 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 e adesso la faccio in figa bravo e il secondo che mi ha fatto tutu e mi ha fatto tutu mi ha distrutto il naso e sono arrivato a questo che mi ha tenuto 10 secondi qui perché era palese che andasse a tempo con la canzone per fare sto porco dio di tampone e mi ha ficcato 10 secondi e 10 secondi a naso a narice mentre mi cantava hot and cold di katy perry questa è stata la mia giornata oggi e per concludere in bellezza devo fare la carriera su tennis non è Che cazzo Che cazzo È caduto È caduto hamburger Allora Quanti siamo Se arriviamo a 10.000 Sa dentro il 31 Di Che cazzo Di mese è È agosto 1.000 euro Su Asos Scelti da me Scelti da voi Scelti un po' Da tutti È tutta skill Ma ti vuoi stare Certo Cazzo È mica D'ha colpito Solo a Tezio Pera Ho capito Io sono undicesimo Guarda Quelli non sono passati Gravissimo errore Di Gino Che viene colpito E questo Che cazzo è Ciso Andanè Dai Ma io non ci credo Vabbè Lucianino 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 Uomini forti Dio mattone Anlaghi lupa Che fa ancora Il livello trainer 2021 Fiat Francesco Michele Twitch Salvo Omar Nico Vostox Macba Ciabattina Hildok Iso Samuele Dom Evolution Andrea Nicola Giovanna Gabbo Caro Moricino Francesco Real life Lulla Biggiup Samuele Dom Panetto Di sburro Tua madre È una troia 04 Foxino E Regà C'aveva la bandiera Dell'arcobaleno Su Twitter E la bandiera Italiana Ho dovuto Duro è dietro Duro è dietro Duro è dietro Adesso diventa difficile Adesso è complicato C'è io No no Impazzisco Cadono tutti Brando Grazie per i 50 C'è i 50 Ah Se gode Brando Mi coglioni Dolphy Capuz Trentin Saro Luca Rex Bicoach Stranger Raffa Bentornati e benvenuti Porca Madonna Vabbè Vabbè Sì Vabbè The Real Belia 7465 Ma chi sei Mandrake Zio Pera GG Grande VIP Che bucio De culo Questo è anche Un tumore Della ciatta Olè Vai Divertite 7400 Vabbè Da pazzi Perti minuti Alla finale Eccola Non me la sono vista Finale olimpica Dei 100 metri Piani Ah Guarda Il cronaca italiana Sdrogo Si riarsa Si riarsa subito Vuole 50 milioni Per il padre Eppure 50 milioni Per il figlio In terza corsia Perché manca Tizio No vabbè Frate ma uno Si è fatto Squalifica Per falsa partenza Due volte Non lo fanno Sudano freddo 45 secondi Alla fine Sbaraggia Porca madonna Che cos'è successo Che cazzo è successo Ci credo In realtà no In realtà frate Metto il joystick così Oddio No Regà scusa Non volevo Regà Messo all'insù Vabbè Comunque sto andando a fissa Quindi cazzo E E Grazie a tutti.